Ciao tifoso del Milan. Benvenuti di nuovo al nostro canale di calcio. Oggi abbiamo notizie preoccupanti riguardo al calciatore Ruben Loftus-Cic del Milan. Secondo Gianluca Di Marzio, ci sono timori di un'incomoda lesione rettale addominale di Loftus-Cic dopo la partita tra il Milan e la Lazio. Approfondiremo questa situazione nei dettagli. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale per non perdere le novità sul Milan. Loftus-Cic è una figura importante nella squadra del Milan, e la sua assenza nelle prossime partite è certa. Il giocatore non sarà disponibile per gli scontri contro il Borussia Dortmund e il Genoa. Questo potrebbe rappresentare una sfida significativa per la squadra, dato che Loftus-Cic è stata una preziosa presenza in campo. La lesione addominale di Loftus-Cic è motivo di preoccupazione, poiché potrebbe influire sulle sue prestazioni e sul tempo di recupero. Il Milan dovrà cercare alternative per colmare l'assenza del giocatore in queste importanti partite, il che non sarà un compito facile. Lasciate i vostri commenti qui sotto su come pensate che il Milan affronterà questa importante assenza. Grazie per averci seguito e alla prossima!